Professor Franz Riccobono, l'idea di un museo della città di Messina, come nasce e in cosa potrebbe concretizzarsi? L'idea che io insieme ad altri amici abbiamo sposato da circa un decennio ha origini più lontane perché già nell'immediatezza del terremoto del 908 si ipotizzava di realizzare un luogo in cui raccogliere tutte le memorie della città di modo tale da consentire la rilettura di quella che era stata la vita e la struttura urbanistica, i monumenti soprattutto, della città poi crollata nel 908. Quindi qualcosa che ha a che fare con il nostro passato più recente, non un museo archeologico che comunque a Messina ancora manca? Il museo archeologico certamente meriterebbe un'adeguata attenzione che ahimè è mancata malgrado il susseguirsi di ritrovamenti importantissimi sia per quanto riguarda il periodo greco che il periodo preistorico, ma nell'immediatezza del centenario del sisma ritengo che sarebbe più opportuno anche perché più immediatamente recepito dal grosso pubblico un museo che consenta, ripeto, di rileggere l'immagine, il volto di questa città straordinaria che fu Messina e che purtroppo a seguito dell'evento traumatico del 908 venne quasi del tutto cancellata, perlomeno in quella che è la struttura normale della città pur rimanendo per la verità, e anche queste sono sottaciute, delle testimonianze imponenti per quanto riguarda le strutture fortificate in quanto Messina fu una città forte da sempre dal periodo medievale in poi è documentata questa struttura fortificata e quindi dalle mura di Carlo V ai castelli come il Gonzaga, il Castellaccio, i resti di Madagrifone e poi quanto rimane della cittadella bastionata insieme alla torre della Lanterna e al forte del Santissimo Salvatore costituiscono un insieme di architettura fortificata che abbraccia l'arco di quasi un millennio e che costituisce sicuramente una prerogativa importante da valorizzare adeguatamente, cosa che anche in questo caso è mancata del tutto tornando alla ipotesi del museo della città, secondo il nostro programma dovrebbe offrire intanto proprio per la ricorrenza centenaria, una ricostruzione iconografica di quello che è stato il tessuto urbano e quindi i principali documenti fortunatamente rileggibili nella iconografia della città non solo a stampa ma soprattutto nella documentazione fotografica che restituisce con fedeltà l'entità di queste strutture architettoniche che crollarono in buona parte nel 1908 e che comunque vennero cancellate nella ricostruzione quindi partendo dal momento critico che è quello del terremoto del 1908 tentare di risalire poi per sezioni nella ricostruzione dell'assetto urbano della città nel Settecento, nel Seicento, nel Cinquecento ed in epoca medievale fino a giungere poi a una sezione ricca archeologica che restituirebbe il giusto ruolo alla nostra città che per quanto mi riguarda certamente ha il primato assoluto per quanto riguarda la priorità nella colonizzazione greca in Occidente al di là di quello che si è ritenuto solitamente nella storiografia ufficiale che vede come prima colonia greca fondata in Occidente Naxos sono del tutto convinto e non in maniera fantastica o campanilistica che il porto di Messina costituiva un punto di riferimento fondamentale per i frussi che già nel periodo miceneo caratterizzarono i movimenti tra Oriente ed Occidente ed altrimenti non si spiegherebbe, cito uno dei motivi che mi portano a queste considerazioni come sia stata fondata queste due colonie di Cuma e Pidecusa nel Golfo di Napoli senza passare dallo Stretto di Messina lo Stretto di Messina era un luogo obbligato un traffico difficoltoso come sappiamo dai racconti omerici c'era questo mito di Cilla e Caridi che si fondava sulla difficoltà di attraversamento delle acque dello Stretto quindi era imprescindibile avere una base nel porto peraltro già naturalmente costituito di Messina la Zanclon o Zancle poi dei Greci e del resto i ritrovamenti archeologici confermano la priorità di questa fondazione nella serie di ceramiche che vanno dal miceneo alla prima metà dell'VIII secolo a.C. addirittura purtroppo è mancata l'attenzione a questo riguardo e un primato che poteva essere motivo di orgoglio per noi messinesi è stato come tante altre prerogative sottaciuto, minimizzato come ahimè avviene da oltre 100 anni nella nostra città Sì, per non parlare anche della possibile, dell'applausibile presenza fenicia nella zona soprattutto di Capo Peloro o dei Siculi e delle famose pietre della Fenice con questa attestazione ancora diciamo poco chiara I fenici certamente praticavano anche l'oro ma c'erano già delle popolazioni indigene che frequentavano e utilizzavano il porto già in epoca preistorica e non è un caso che numerosi stelle in basalto colonnare di un peso considerevole sono state ritrovate nei livelli dell'età del bronzo e escludendo il trasporto per via di terra per motivi intuibili questi monoliti venivano trasportati dalla foce dell'Alcantara fino al porto di Messina per via di mare e quindi già in epoca preistorica abbiamo documentata una frequentazione di questo tratto di costa della Sicilia nord orientale attraverso la presenza di questi reperti che ripeto sono indiscutibilmente provenienti da quel luogo ai margini settentrionali dell'Etna